Oggi azzura ed alla fine tanto tuonò che piove. Sbarca in laguna l'ipotesi di costruire il primo reattore nucleare mini di terza generazione avanzata, ipotizzato in questi giorni dal ministro Urso, come un piano di medio-lungo periodo per tutti i distretti industriali italiani che non vogliono tornare al blackout medievale che attanaglia in questi giorni l'Havana, la capitale di Cuba. Adolfo Urso non è uno di quei politici sangue e fango che parlano solo per aizzare la folla. Pesa e ripesa le parole e ritiene che la preparazione sugli argomenti di cui devi occuparti sia un dovere morale oltre che civico. Se in questi ultimi tempi di fronte allo scampato pericolo del gas a 300 euro al megawattora e all'ubriacatura di rinnovabili, energia verde, motore elettrico che ha travolto l'Europa senza vedermi il rovescio della medaglia, dicevo se in questo periodo ha sposato senza indugi il paradigma nucleare bisogna dargli il credito che merita. Siamo passati da un secolo a combustione interna al nuovo millennio dell'elettricità, ma tutto ciò ha dei costi insostenibili per l'ambiente. Il rumore ovattato e pulito della mia Tesla ultimo modello copre un mondo fatto di miniere a mani nude scavate nell'ultimo paradiso della biodiversità, l'Amazonia. Qui i Garimperos scavano e inquinano la terra degli anomani per estrarre oro e terre rare, indispensabile per la cosiddetta rivoluzione verde elettrica, fotovoltaica o eolica che dir si voglia. Per estrarre una tonnellata di terre rare, che hanno i nomi che ricordano quelli dei sette nani, Neodimio, Gadolinio, Promezio, Olmo, Lutezio, si producono una tonnellata di scorie radioattive al torio, 12.000 tonnellate di liquami tossici, 9.000 tonnellate di scarti. Vi sembra un buon affare in cambio di che cosa poi? Di un'auto elettrica per cui elettricità magari viene prodotta ancora bruciando carbone? Ed ecco allora il cuore oltre all'ostacolo buttato dal ministro Urso, che ha di fatto ridisegnato un programma industriale all'inizio del mandato appena abbozzato, verso un'energia che se usata bene non produce nemmeno un chilo di scorie radioattive. I vecchi reattori, quelli alla Chernobyl per intenderci, non servivano per produrre elettricità, servivano per produrre plutonio per le bombe. I nuovi a neutroni veloci, le scorie se le mangiano e producono energia. Manca ancora molto per il nostro Iave Dream, ma il quadro legislativo, entro cui muoversi, dovrebbe essere disegnato a breve. E quindi coraggio Scott, curvatura zero verso l'ultima frontiera.